22. Non esistono più per lui Tutti i giorni vado a trovare mio marito, che non mi riconosce mai, perché è il morbo di Alzheimer. I trent'anni vissuti insieme e i figli che abbiamo avuto non esistono più per lui. 23. Ieri però, nel giardino della casa di cura, ho visto mio marito che si teneva per mano con una degente malata anch'essa di Alzheimer. Si erano innamorati. Allora dove è andato a finire tutto il nostro passato? 24. È rimasto come seme, come succo evolutivo nella vostra coscienza, e non è andato perduto, perché niente si perde. Infatti, si ammala il cervello fisico, poi si consuma il corpo mentale, la mente, ma la coscienza resta perché è immortale. 25. 25. 27. 28. 26.